in tempi di crisi torna il fai da te in cucina ecco allora che un italiano su tre prepara più spesso rispetto al passato la pizza in casa il 19 per cento in più fa il pane l'undici dolci e si diffondono anche gli orti coltivati ormai da quasi una famiglia italiana su tre secondo una recente indagine di col diretti infatti gli orti urbani sui territori comunali in lombardia sono oltre i 2000 e in tempi di crisi infatti la tendenza è quella di riscoprire il piacere di cucinare partendo da materie prime fresche di qualità quelli che acquistano prodotti locali sono il 40 per cento quelli che scelgono solo frutta e verdura di stagione il 50 con un balzo record del 23 per cento in un anno degli acquisti fatti direttamente dal produttore